Si avvicina il tanto atteso turno di semifinale playoff. Il Frosinone affronterà, come ormai noto, la vincente della sfida tra il Bari e il Cittadella. L'andata allontanata a casa è il prossimo 6 giugno e il ritorno al Benito Stir per il prossimo 10 giugno, dopo naturalmente la sentenza del Tribunale federale sul caso Bari, che per l'appunto ha fatto slittare di altri sette giorni l'attesissima semifinale. E a proposito di ciò, dallo scorso mercoledì 23 maggio è già partita la vendita dei biglietti. Prezzi a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. Poi, a partire dalle 11 di lunedì 28, la vendita sarà aperta a tutti, con possibilità di acquisto anche nel giorno della gara presso il botteghino dello stadio. Anche per la vendita libera i prezzi saranno inferiori rispetto al resto della stagione, anche se gli sconti non saranno come quelli degli abbonati, che di fatto rispetto agli altri pagheranno dunque la metà. Le curve costeranno 12 euro, Tribuna Est 20, mentre la Tribuna andrà dai 28 ai 48 euro. Una politica, quella messa in campo dal Frosinone Calcio, che punta al massimo afflusso di tifosi. Il passo falso contro il Foggia, costato alla promozione diretta in Serie A, è ancora da digerire, ma servirà l'apporto di tutti per continuare a credere di raggiungere un obiettivo che in fondo così irraggiungibile poi non è. Ed in questa prima finestra, che durerà fino a domenica, gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione. Gli abbonati che vorranno assistere alla gara potranno recarsi nei punti vendita autorizzati con il segnaposte ed un documento di identità. In questo modo non solo avranno la certezza di assistere alla partita nello stesso punto in cui erano abbonati, ma ci saranno anche fortissimi sconti rispetto ai non fidelizzati. Si andrà dai 6 euro delle curve ai 48 della tribuna d'onore, passando per la tribuna est a 10 euro, e gli altri settori della tribuna da 14 a 24 euro. Si andrà dai 5 euro.